Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come velocizzare così al meglio la connessione download su Epic Games riguardo alla velocità nel scaricare i giochi quindi in questo caso per farti un piccolo esempio io adesso sto usando la connessione wifi e provo così a installare quindi scarico e installo un gioco quindi vado direttamente a scaricare un gioco faccio installa faccio download e vediamo a quanto va e questa è la velocità di connessione che mi sta dando quindi in questo caso per farti anche un altro esempio se adesso smetto di scaricare così il gioco e passo direttamente al cavo Ethernet che è meglio perché se tu hai una fibra ultra in casa quindi una buona connessione però stai usando la wifi scarichi veramente pochissimo questa è la velocità di connessione adesso cambio e metto il cavo Ethernet ora riprendiamo così il download questo è il cavo Ethernet come puoi vedere qua sotto accesso a internet e riprendiamo il download ed ecco qua la differenza tra la connessione wifi e quello del cavo Ethernet ovviamente come puoi vedere sullo schermo qui questo è il mio cavo Ethernet però ti consiglio di comprare quelli migliori quindi per farti vedere un grafico grazie ai cavi Ethernet migliori e quest'altro cavo Ethernet che ti consiglio che puoi comprare il cat 5e che uso io fino a 1000 mega e scarico 100 megabyte al secondo riesco a scaricare fino a 100 megabyte al secondo facendo anche un test su steam sono arrivato fino a 90 megabyte al secondo il cat 6e cat 6e e poi ci sono gli altri due che arrivano fino a 10.000 megabit che scarichi un terabyte in 20 minuti quindi qua dipende tutto dalla connessione e dal cavo Ethernet che utilizzi se hai una buona connessione in casa ma usi la wifi e scarichi veramente poco prova a usare il cavo Ethernet poi passiamo direttamente all'altro passaggio che sarebbe il DNS benchmark che tu hai lasciato in descrizione che ti permette di visualizzare così i migliori DNS disponibili come puoi vedere per ora il miglior DNS disponibile è questo qua il 156.154.71.25 che è migliore degli altri quindi se io adesso vado direttamente su impostazioni rete internet tasto destro sopra qua impostazioni di rete internet avanzate vai sulla tua rete faccio modifica vai su versione 4 tcp pv4 e andiamo così a inserire questo qua una volta inserito come DNS preferito possiamo anche mettere DNS alternativo quello che sta sotto al 156 mettiamo i 4.8 qua e fai ok una volta fatto vai sempre su modifica la tua scheda vai su configura vai su avanzate vai su Ethernet risparmio energetico metti disabilitato risparmio energia togli il consente al computer di spegne dispositivo risparmio energia togli questo e fai ok e questa è la velocità del download con il mio cavo Ethernet quindi prova poi a comprare un cavo Ethernet di quella misura in questo caso prova ad usare un CAT6E oppure un CAT6A CAT7 per migliorare anche la velocità di connessione grazie anche al cavo Ethernet e la buona connessione che hai in casa quindi i passaggi erano questi su come migliorare la velocità di connessione al download su Epic Games quindi se questo video è stato utilissimo su come velocizzare al meglio il download come puoi vedere sta aumentando un po' sopra i 60 MB al secondo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao